Il vostro nobile governatore ha approvato una nuova legge a beneficio del popolo. Da questo momento, notte e tempo, sarà possibile effettuare delle rapide... ...e già sono contati. Li ucciderà tutti. Anche se potrebbe volerci. Un amolito. Imbaccarmi su una nave mercantile. Aiutate, un cristiano comune. Salve, cittadini di Roma! Ammirate questo splendido spettacolo! Caterina Sforza, gran puttana di Forlì, finalmente è stata messa in ginocchio! Nessuno può scendere più in basso di Lucrezia Borgia! Chi ti è ridotta così? Tuo fratello o tuo padre? Forse entrambi! Magari contemporaneamente! Chiudi la bocca! Nessuno può ingiuriare Borgia! Lo stesso accadrà a chi intende opporsi a noi! Popolo di Roma, sei forte! La tua ora arriverà e sarai libero, lo giuro! Intendono torturarla. Tu sei qui per Cesare e Rodrigo. Caterina è un potente alleato. Se l'aiutiamo ora che debole saprà esserci riconoscente. Forse, ma prima uccidi Cesare e Rodrigo. La tua ora è un'attitica! Questa è un'attitica! La tua ora è un'attitica! La tua anzi può essere un'attitica... La tua attività è rune a fare un'attitica! La tua ora è un'attitica! La tua ora è un'attitica! No Aspettate un momento. Guarda su, fermo. Ti nascondi qui, amico? Ti nascondi qui, amico? Ti nascondi qui, amico? Ti nascondi qui, amico?